E' mercoledì E' anche in questo 31 dicembre Grazie a tutti voi di essere davanti al televisore O grazie comunque a chi ci sta seguendo in replica E magari l'anno lo ha già scavallato Giovanni, ben trovato ancora una volta Grazie, buon pomeriggio a tutti In questa nostra serie siamo arrivati alla puntata numero 14 E' una puntata in cui avremo contributi Che ci fanno sentire la bellezza del Libro dei Salmi Ma ci fanno anche entrare per la prima volta Nel Nuovo Testamento E noi in queste settimane abbiamo Certo, grazie a Giovanni Grazie ai vostri interventi Anche risposto su questioni Che implicavano appunto Il coinvolgimento anche del Nuovo Testamento Oltre che dell'Antico Però oggi abbiamo degli spunti Che volano, che attraversano I nostri desideri anche per il prossimo anno In fondo Giovanni, dovremmo anche dire Che l'anno liturgico è più importante di quello civile Però Sì, diciamo che ci prepariamo al Nuovo Anno Anche con questo Nuovo Testamento In effetti i due testamenti si richiamano molto fortemente E alla luce del Nuovo è possibile rileggere anche l'Antico E questo vale anche nella vita Quando con sguardo retrospettivo Alla luce del tempo presente Riusciamo a cogliere magari Illuminati da Dio La sua presenza in tutto il percorso E non può mancare anche il riferimento Ai modi che avete per contattarci Come sempre grazie a chi ci scrive All'indirizzo di posta elettronica Bibbia e Famiglia Chioccio alla Teleradio Padre Pio.it E grazie anche a chi usa il telefono Usa il mezzo più diretto 0882 418380 Spesso avete i colleghi a rispondere Durante questo programma Li ringrazio In particolare Anna Maria e Nicola Ma ringrazio anche Grazia Pia La nostra segretaria Che tante volte risponde E ci dà modo di andare a scovare Posso dire il vostro contributo Giovanni I nostri telespettatori hanno portato Molti contributi Facciamo quasi un mini bilancio Segno di un tema che piace E soprattutto di un riferimento Alla Sacra Scrittura Che è sempre più visto In modo più centrale E decisivo nella vita di ognuno C'è bisogno di luce Di orientamento E la parola di Dio Offre questa possibilità Io volevo farti subito Una domanda Che è un po' nell'aria Quando si chiude un anno È più bello Diciamo Frequentare la Sacra Bibbia A modo proprio O soprattutto Essendo coinvolti Con la comunità cristiana Si può fare l'uno e l'altro Perché come comunità cristiana È bello rendere l'odio al Signore Per quanto ha donato In quest'anno E la preghiera fatta come Chiesa Ha una forza particolare Perché è quella che Dio stesso Ha auspicato Chiamando il popolo di Israele Dio chiama un popolo E poi Gesù stesso Nel Nuovo Testamento Ci offre diversi riferimenti Sulla forza di questa preghiera comune Pensiamo alle comunità religiose Che vivono molto intensamente Questo aspetto Però è anche un tempo Di preghiera personale Perché magari di fronte A una società distratta O proprio in questo giorno Proiettata su ciò che È più legato all'apparire Invece trovare uno spazio Di introspezione Magari anche di silenzio Per ringraziare il Signore Per quanto ci ha dato È un gesto profetico Ma anche dall'alto valore testimoniale Tu parlavi di silenzio In effetti allora Voglio subito dire a Silvano Che abbiamo preso in considerazione La sua sollecitazione Che è arrivata già diversi giorni fa Per e-mail Scriveva Mi fa un po' paura Questo arrivare Le feste per me Perché Le passo quasi sempre in solitudine Non si è capito bene Dall'immense per scelta o meno Comunque chiede Qual è in particolare Una maniera per Cogliere diciamo Uno spunto nuovo Dalla Bibbia Che faccia venire la voglia Di ricaricarsi La Bibbia ci racconta L'esperienza di un popolo Con il suo Dio E poi l'esperienza del nuovo popolo Che è la Chiesa Mediata dall'unico mediatore Fra Dio e gli uomini Gesù Cristo E dunque Cosa ci suggerisce la scrittura? Abitare il tempo Abitare il tempo Con una Differente partecipazione Con una differente qualità Questa è una cosa Che possiamo fare Perché Nessun tempo È senza senso Anche quello Apparentemente Passato in solitudine Può essere Un'occasione Per Leggere la presenza Di Dio Nel proprio cuore Ma anche Quando questa solitudine È forzata Come forse Sembra emergere Da questa domanda Il tempo Assume un valore Di offerta Diventa possibilità Di partecipazione Alla sofferenza Di Cristo Senza per questo Divenire Un luogo Deprimente O negativo Il tempo È pieno Dice Gesù Quando inizia la sua missione Il tempo è compiuto Cioè il tempo È pieno È pieno di Lui E quando è pieno di Lui Ogni tempo Ha un senso È molto bello Quello che dici Noi Tante volte Abbiamo fatto Una riflessione Proprio da Occidentali Potremmo dire In tanti ambiti Sulla questione Del tempo ciclico E del tempo cronologico Con la meravigliosa Frase di Sant'Agostino Che dice Se non mi chiedi Che cos'è il tempo Lo so Se me lo chiedi Non lo so più Mi sembra No? Immagino Che ci siano anche echi Dei sacri testi In una frase Di tale profondità Però io volevo anche Invece subito Introdurre Con te Qualcosa su questo Meraviglioso libro Fuori dal tempo Perché è poetico Che sono i salmi Sì I salmi Davvero È l'esempio di come La preghiera dell'uomo Possa essere elevata A parola di Dio Perché di questo si tratta I salmi Sono delle preghiere Vissute Dietro le quali C'è un forte Background Esperienziale C'è dietro L'esperienza Di un popolo Di cui poi Il singolo Si fa portavoce Esperienza di gioia Ed esperienza Di dolore Tutti i sentimenti Sono presenti Nelle preghiere Dei salmi Per questo Sono quelle Che più Ci fanno sentire Dio vicino Perché quando Si leggono Preghiere Accorate O anche Lamentele Allora comprendiamo Che la fede Non è qualcosa Di disincarnato Ma appartiene Alla storia Dunque Alla storia Al tempo Insomma Dio passa In questo tempo Quando l'uomo Se ne accorge Il tempo Diventa Kairos Diventa opportunità Di cogliere La sua presenza Diventa passo in avanti Cambiamento Ma non per questo Si può prescindere Dalla dimensione Della fatica E dalla sofferenza Di cui tutti i salmi Ci danno testimonianza Ecco Volevo anche chiederti Un Di entrare un po' Nel contesto Se è possibile Cioè È importante È interessante Capire Quando sono stati scritti Se sono tutti Corrispondenti A uno specifico periodo A un autore La tradizione Li ha Sottoposti Al Diciamo Al patrocinio Se così possiamo dire Di Davide O di Salomone Però è chiaro Che è un po' Un titolo Che viene dato Ma i salmi Sono Preghiera Di comunità E dunque Sono stati Composti Gradualmente Sono diverse Collezioni Che hanno Una loro Organizzazione interna Soprattutto Nella redazione Finale Una loro Finalità Sia a partire Dal numero Che a partire Dall'organizzazione Perché Ripercorrono L'esperienza Del tempo Proprio Della giornata I salmi Del mattino Pomeriggio Sera Notte Detto In questi termini Non significa Solo Che ci sono Dei salmi Legati Alle fasi Della giornata Ma Questi tempi Come Luoghi Di esperienza Di Dio Mi spiego L'alba Di una nuova Esperienza Di Dio Il mattino Quel tempo Della Giovinezza Della Speditezza Dell'esperienza Con Dio Ma La vita Dell'uomo Deve anche Attraversare Il tempo Del pomeriggio E poi Il tempo Del tramonto E il tempo Della notte La notte Oscura Insomma Nella dimensione Cronologica Dunque Dell'alternarsi Dei tempi Giornalieri È presente Una lettura Della vita E adesso Ascoltiamo Qualche versetto Dal Salmo 1 Beato l'uomo Che non entra Nel consiglio Dei malvagi Non resta Nella via Dei peccatori E non siede In compagnia Degli arroganti Ma Nella legge Del Signore Trova la sua gioia La sua legge Medita Giorni e notte È come l'albero Piantato lungo Corsi d'acqua Che dà frutto A suo tempo Le sue foglie Non appassiscono E tutto quello Che fa Riesce bene Non così Non così I malvagi Ma come pula Che il vento Disperde Perciò Non si alzeranno I malvagi Nel giudizio Né i peccatori Nell'assemblea Dei giusti Poiché Il Signore Veglia Sul cammino Dei giusti Mentre La via Dei malvagi Va in rovina Perché le genti Sono in tumulto E i popoli Cospirono in vano Insorgono I re Della terra E i principi Congiurano insieme Contro il Signore E il suo Consagrato Spezziamo Le loro catene Gettiamo via Da noi Il loro gioco Ride Colui Che sta Nel cielo Il Signore Il Signore Si fa Beffe Di loro Egli parla Nella sua ira Li spaventa Con la sua collera Io stesso Ho stabilito Il mio sovrano Sul Sion Mia santa montagna Voglio Voglio annunziare Il degredo Del Signore Egli mi ha detto Tu sei mio figlio Io oggi Ti ho generato Chiedimi E ti darò In eredità Le genti E il tuo dominio Le terre Più lontane Le spesserai Con scetro Di ferro Come vaso Di argilla Le frantumerai E ora Siate saggi O sovrani Lasciatevi Correggere O giudici Della terra E' davvero bello Quell'ultimo verso Lasciatevi Correggere Giudici Della terra Immagino Che intendesse I potenti Sì I potenti Che Non sono pronti Ad accogliere Le sorprese Di Dio Perché Quello è un Salmo messianico E dunque La venuta Del Cristo Che sorprende I principi Delle nazioni Che hanno I loro parametri Di riferimento Insomma Con questi Col primo E il secondo Salmo Abbiamo aperto Una porta Perché è proprio La porta di ingresso Verso questo itinerario Questo cammino Spirituale Di discepolato Che è appunto È presente In questa raccolta Dei salmi C'è un cammino Dell'uomo Con Dio Con delle avvertenze Con delle Significazioni Che vengono date Subito Fin dall'inizio Beato l'uomo Che teme Il Signore Che cos'è Questo timore Non è Non è la paura Non si tratta Di questo Perché nella paura Non c'è amore Ce lo dice anche La prima lettera Di Giovanni Capitolo 4 Nel Signore Nell'amore Non c'è timore Insomma Se amiamo Dio Non possiamo aver paura E invece timore È l'esperienza Di colui Che conosce Il proprio limite La propria Inadeguatezza In un altro brano Che richiama Il contesto Dei salmi Nel libro Del Siracide È detto Che sapere Di non sapere È il principio Della sapienza E dunque Del timore Del Signore Chissà se Socrate Lo sapeva Lo conosceva Questo versetto Quando ha appunto Inciso Questa frase Che noi tutti Nella cultura Occidentale Attribuiamo a lui Non so Chi l'ha detto Per primo Ma c'è Una riflessione Filosofica Da un lato Che fa esperienza Del limite Dell'uomo Come possibilità Di progredire E andare avanti Sul piano biblico Tutto ciò È detto Perché L'uomo Deve farsi trovare Umile Di fronte A Dio E questo È umiltà Perché Dio Possa riempire La vita Dell'uomo Ma l'uomo È chiamato A stare Alla presenza Di Dio Ed ecco La successiva Immagine L'uomo Che medita La parola Di Dio La sua legge Ovvero La parola Allora conosciuta La Torah È come albero Piantato Lungo Corsi D'acqua Chiaramente Le sue foglie Non possono Appassire Perché è Costantemente Irrorato Dalla presenza Di Dio Questo Fiume D'acqua Che scende Ci ricorda Una parola Di Gesù stesso Che dice Dal mio seno Sgorgeranno Fiumi Di acqua Viva Da quel seno Che è stato Trafitto Dal crocifisso E quindi È bello Vedere Come Gesù Possa essere Questa fonte Di Perenne Sorgente Perenne Sorgente Perenne E poi Questa meditazione Avviene Giorno È notte Molto bella Anche Questa immagine Di notte Si Si deve Dormire Ci mancherebbe Ma il salmista Ci dice In un altro passaggio Anche Di notte Il mio cuore Mi istruisce Che significa È la differenza Fra dormire E vegliare Durante Il dormire Fisico C'è Il vegliare Spirituale E tra l'altro Le nuove scoperte Visto che tu Spesso innesti Anche la scienza Nelle tue Bellissime Esegesi E spiegazioni Dicevo Le ultime scoperte Ci dicono Che comunque Il nostro cervello Dormendo Fa delle azioni Proprio plastiche Anche Quindi Sicuramente In parte Quello che Ci insegna La sapienza Si trova Poi Corrisposto In tante scoperte Sì Gli studiosi Parlano anche Di stati Modificati Di coscienza Che davvero Intervengono In molti Soggetti C'è chi dice Addirittura L'ottanta per cento Delle persone Può Annoverare Un'esperienza Di tipo Spirituale O tra virgolette Mistico Che magari Deve saper decifrare E decodificare E non ha gli strumenti Adatti Però è un qualcosa Di possibile All'uomo Cioè Saper distinguere Per esempio Quando un sogno È frutto Di una proiezione Di un proprio Desiderio O di una propria Paura Come Gli psicologi Ci dicono Nella maggior parte Dei casi Oppure Quando ci troviamo Di fronte A una situazione Diversa Che però Dobbiamo saper Discernere Anche aiutati Da qualcuno Che è competente Sul piano Spirituale Perché Dio Dio parla Anche attraverso Questa modalità Certo Forse anzi Nell'Antico Testamento E qualcuno di voi Potrebbe anche Domandarci qualcosa Di specifico In merito Si nota Come in passato Del resto Anche in altre civiltà Si desse fin troppa Importanza Ai sogni Proprio come vaticini Si bisogna stare attenti Perché E' chiaro Da un lato Anche l'intervento Degli angeli Nella scrittura E' sempre E' spesso Accompagnato Da questa situazione Di sogno O sonnolenza Dell'uomo Però appunto La sonnolenza Già Ci apre Una prospettiva Diversa Perché E' uno stato Particolare Per esempio Quello di Adamo Quando viene creata Eva C'è un Tardema In ebraico Cioè Abramo Sta Adamo Scusate Sta in questo Stato Di Particolare Non si capisce Se dorme O se veglia E in quel contesto E' creata Eva Pensiamo Padre Pio Quando lui Ci narra Che le sue visioni Erano fatte Con Mentre era sveglio Cioè Con l'occhio Dell'intelligenza Lui così spesso Dice Che significa Che mentre lui è sveglio Così come noi Mentre sta parlando Stava pregando Molto spesso Durante il ringraziamento Eucaristico Dunque una preghiera Di adorazione Post Ricevimento Eucaristia Padre Pio Ha queste Visioni Ma Mentre lui E' presente Insomma E' da indagare Certo Guidami Signore Nella tua giustizia A causa Dei miei nemici Spiana Davanti a me La tua strada Non c'è sincerità Sulla loro bocca E' pieno di perfidia Il loro cuore La loro gola E' un sepolcro Aperto La loro lingua Seduce Condannali Oddio Soccombano Alle loro trame Per i tanti Loro delitti Disperdili Perché a te Si sono Ribellati Gioiscano Quanti in te Si rifugiano Esultino Senza fine Proteggili Perché in te Si aglietino Quanti amano Il tuo nome Poiché Tu benedici Il giusto Signore Come scudo Lo circondi Di benevolenza Signore Non punirmi Nella tua ira Non castigarmi Nel tuo furore Pietà Signore Sono sfinito Guarisci Mi Signore Tremano Le mie ossa Trema tutta L'anima mia Ma tu Signore Fino a quando Ritorna Signore Libera La mia vita Salvami Per la tua Misericordia Nessuno Tra i morti Ti ricorda Chi negli inferi Canta Le tue lodi Io spero Che abbiate Già capito Per quale motivo C'è stata questa scelta In particolare Mia Proprio perché All'inizio Di un nuovo ciclo Come è In qualche modo Un inizio Di anno civile Sentiamo il bisogno Di sapere Di sentire Appunto Ribadito Che il Signore Distingue Buoni e malvagi E che Insomma Spiegalo tu Giovanni E che dobbiamo Non lasciarci travolgere Anche quando Sembra che il male Ci sia arrivato Proprio a ridosso Sì Molto bella la scelta E molto significativa È vero Perché proprio In questo tempo Nel quale magari Uno è portato A fare una rilettura Di tutto quello Che è accaduto Nell'anno ancora in corso Per poche ore In riferimento A quanti ci hanno Arrecato Un tipo di Sofferenza Svariato Da molteplici Punti di vista In effetti È fatto da quasi tutti E non sempre È fatto Con il cuore Giusto Lasciatemi Consentire Questa affermazione Perché è vero Sembra quasi Che chi ci ha Recato del male Abbia Abbia la vittoria Abbia avuto La meglio Su di noi E invece I salmi E questo salmo In particolar modo Ci presenta Una prospettiva Differente È sempre Dio Il Signore Di tutto È sempre Lui A coordinare Il tutto E magari Così come Diceva un padre Della chiesa Coloro che ci hanno Arrecato sofferenza Sono come Dei medici Mandati Da Dio Perché Dice sempre Questo padre Della chiesa Mi sembra sia San Gregorio Nazianzio Dice che Il fatto stesso Che tu abbia Sofferto È perché Lì c'era Una tua ferita Aperta Che Dio Come medico Vuole risanare E dunque Le persone Che ti procurano Sofferenza Sono come Dei benefattori Perché Ti fanno fare Un ulteriore Step Un ulteriore Percorso Nel tuo Incontro con Dio E anche Nella santità È chiaro Che Questo è visto In una visione Generale Perché La singola Persona Che compie Del male È uno Che ha bisogno Di conversione Ma perché Gesù dice Di pregare Per i nostri nemici Allora Significa che Dio Rielabora tutto Alla fine Ciò che può Sembrare male In realtà Ci ha fatto fare Un percorso Di bene Bene per noi Anche se Chi materialmente È stato Portavoce Di quel male O di quella sofferenza Ha sbagliato Giovanni Quello che tu Hai spiegato Andava un po' Nel mistico E io Ritornando Alla Bibbia E anche ai salmi Ti chiedo Siccome Ad esempio Qui abbiamo Il versetto Porgi l'orecchio Signore Alle mie parole Intendi il mio lamento Cioè Sembra che Tutto è L'uomo Del salmo Forché un mistico Invece C'è spazio Anche per questo Sì Perché la preghiera È reale Non è mai disincarnata È proprio L'esperienza Reale Magari Del ritardo Di Dio Perché Dio Non interviene Mai subito Perché Vuole che l'uomo Faccia un percorso Questo emerge Da tutte le preghiere Dei salmi Perché il salmista Si lamenta sempre Di questo intervento Protratto Non subitaneo Bene Dio ha i suoi obiettivi Vuole che l'anima Maturi Il desiderio Vuole che questa Sofferenza Produca Un cambiamento Interiore Ed ecco che Ritorna a quanto Dicevo prima Perché la mistica In realtà Anche questa Non è disincarnata È fondata Su questa Sapienza pratica Che l'uomo Assume Imparando a leggere La sua vita È più alta È la sofferenza Più Dio Sta lavorando Sostanzialmente Dio vuole Suotarci Da noi stessi Questo emerge Analizzando Tutte le preghiere Salmiche Perché ti fa Arrivare a dire Ma tu ci sei Ma perché non Intervieni Perché fermi La tua mano Hai sentito Il mio lamento Insomma Un ritornello Tipico Dei salmi Prima di lasciare Questo meraviglioso Libro Volevo anche Far riferimento Al fatto che Parlando Di poesia È un periodo In cui ritorna Molto in auge L'immortale Giacomo Leopardi Siccome Fin da Ragazzini Tutti ci siamo Imbattuti Nella bellezza Dei suoi versi Allora La mia domanda È innanzitutto Secondo te Quando Una poesia È dolore Espressione di sofferenza Può sempre Definirsi preghiera Sì Anche Perché Questa sofferenza Questo dolore Sono magari Descritti Come un Non senso A tinte Forti Diventa Una preghiera Quasi Simile A una disperazione E quella Secondo me È anche preghiera Anche appunto Quando non c'è Quell'intenzione Nell'autore Perché c'è una ricerca Di senso Ecco E l'altra cosa Invece più Sulla forma Ma una forma Che ci interessa Molto Sempre partendo Da Leopardi L'infinito È Come posso dire Una successione Di parole Che sembra Della massima naturalezza Invece noi sappiamo Che ha richiesto A Leopardi Tantissime stesure Per quell'effetto C'è anche Per i salmi Qualcosa di simile Cioè Conosciamo Stesure Precedenti Piurozze Dal punto di vista Della poesia Ma sì Ci sono Perché i salmi Sono sempre stati Sottoposti Alla revisione Della comunità E prima Di essere Inseriti In un canone Accettato E condiviso Sono stati Pregati Vissuti Riletti E in questo Percorso Di rilettura Chiaramente Sono stati Affinati Alcuni aspetti Perché In questa Preghiera Il popolo Si rivede Rivede Il suo percorso Il suo cammino La sofferenza Diciamo Il cuore Fallace Di ogni uomo Dietro il quale C'è questa esperienza Ripetuta Che poi In un certo punto Viene standardizzata In una stesura Più stabile E condivisa Dalla comunità Quando In certi passaggi È detto Appunto Che il cuore Dell'uomo È difficile Da comprendere Quando Sulle parole È detto Che C'è gente Che parla In modo Subdolo Nel senso Che Piuntuose Del burro Sono le sue parole Ma sono Spade Sguainate Questa è un'esperienza Davvero Forte A livello Interpersonale Relazionale Dunque i salmi Non sono disincarnati Davvero Rileggono la vita E a proposito Di vita Noi andiamo Direttamente Nel cuore Del nuovo testamento Con il Vangelo Di Matteo Di voi Quando vi Insulteranno Vi Perseguiteranno E Mendendo Diranno Ogni Sorta di Male Contro di Voi Per Causa Mia Ranegratevi Ed Esultate Perché Grande È la Vostra Ricompensa Nei Ceri Così Infatti Perseguitarono I profeti Che furono Prima di Voi Voi Siete Il sale Della Terra Ma Se il sale Perde Il sapore Con Che cosa Non si Renterà Salato A Null'altro Serve Che Ad essere Gettato Via E Calpestato Dalla Gente Voi Siete La Luce Del Mondo Non Può Restare Nascosta Una Città Che Sta Sopra Un Monte Ne Si Accende Una Lambada Per Metterla Sotto Il Moggio Ma Sul Candelabro E Così Fa Luce A Tutti Quelli Che Sono Nella Casa Così Risplenda La Vostra Luce Davanti Agli Uomini Perché Vedano Le Vostre Opere Buone E Rendano Gloria Al Padre Vostro Che Ne Ceri Un bel Piano Di Lavoro Per Il 2015 Assolutamente Sì A partire Ancora Una Volta Dalla Consapevolezza Della Identità Del Cristiano Insomma Il Cristiano È Qualcuno Che Deve Andare Un po' Controcorrente Che Non Può Scendere A Compromessi Deve Vivere Il Vangelo E Già Vivere Il Vangelo Diventa Un'azione Profetica Che Può Destare Un Certo Tipo Di Incomprensione In chi Sta Attorno E Da qui Anche La Degenerazione In alcune Forme Di Persecuzione Benvengano Sono Un Buon Segno Significa Che Stiamo Vivendo Il Vangelo L'ha Detto Gesù Se Volete Essere Mie Discepoli Dovete Prendere La mia Croce E Questa Croce Da Allora Fino Ad Oggi È Sempre Motivo Di Scandalo E Di Contraddizione Che Si Esprime Anche In Questa Difficoltà A Comprendere Di Chi Sta In Genere Intorno Al Cristiano E Il Discorso Della Montagna Secondo Alcuni È La Magna Carta Del Cristiano Sì È Un Momento Di Sintesi È Un Momento Nel Quale Gesù Rielabora Il Percorso Offerto Nell'Antico Testamento È Come Se Ci Fosse Un Passaggio Dai Dieci Comandamenti A Queste Beatitudini Risignificate Alla Luce Di Lui Stesso Di Gesù Gesù È Il Maestro Che Siede Sul Monte Sale In Cattedra Così Come Dio Aveva Dato A Mosè I Comandamenti Sul Monte Sinai Ancora Una Volta Abbiamo La Ripresentazione Di Uno Scenario Simile E Gesù Dà Delle Indicazioni A partire Dalla Fede Lui Se Crediamo In Lui Dobbiamo Essere Pronti A Questo Tipo Di Esito E Tutto Questo Sarà Luce Perché Il Cristiano In Questo Modo È Luce Che Risplende Altrimenti Se Scende A Compromessi Con Le Logiche Del Mondo O Se Il Suo Cristianesimo È Un Po Annacquato Se Perde Il Sapore Così Come Emerge Dalla Parabola Evangelica E Allora Non Serve A Nulla Non Incide Non È Profetico Oggi Invece Abbiamo Bisogno Di Profeti La Parola Beato Ha Degli Echi Che Immagino Affondano Nei Libri Più Antichi Della Bibbia Sì Perché La Beatitudine Indica Anche Santità Ma Anche Separazione Sul Piano Tecnico Etimologico Dio Separa Separa Per Portare Avanti Per Condurre Per Affinché Il Soggetto Che È Investito Di Tale Onore In realtà Tutti I Cristiani Divenga Consapevole Del Percorso È Molto Interessante Quello Che Dice Abbiamo Ancora Qualche Minuto E vogliamo Subito Procedere Ancora Con Il Nuovo Testamento Con Un Augurio Con Un Invito Vangelo Di Luca Alzati Gli Occhi Vide I Ricchi Che Gettavano Le Loro Offerte Nel Tesoro Del Tempio Vide Anche Una Vedova Povera Che Vi Gettava Due Monetine E Disse In Verità Vi Dico Questa Vedova Così Povera Ha gettato Più Di Tutti Tutti Costoro Infatti Hanno gettato Come offerta Parte del Loro Superfluo Ella Invece Nella Sua Miseria Ha gettato Tutto Quello Che Aveva Per Vivere Mentre Alcuni Parlavano Del Tempio Che Era Ornato Di Belle Pietre Di Doni Votivi Disse Verranno Giorni Nei Quali Di Quello Che Vedete Non Sarà Lasciata Pietra Su Pietra Che Non Sarà Distrutta Gli Domandarono Maestro Quando Dunque Accadranno Queste Cose E Quale Sarà Il Segno Quando Esse Staranno Per Accadere Rispose Badate Di Non Lasciarvi Ingannare Molti Infatti Verranno Nel Mio Nome Dicendo Sono Io E Il Tempo È Vicino Non Andate Dietro A Loro Quando Sentirete Di Guerre E Di Rivoluzioni Non Vi Terrorizzate Perché Prima Devono Avvenire Queste Cose Ma Non È Subito La Fine L'immagine Era quella Della Vergine Santa Maria Delle Grazie Il Luogo Lo Sapete È Infatti Uno Dei Luoghi Di San Pio In Questo Caso La Prima Chiesetta Dedicata Alla Madonna Ma Dalla Bibbia Giorno E Notte Ritorniamo A Te Alla Tua Spiegazione E Anche Al Tuo Invito Conclusivo In Questa Puntata Sì, è bello il comportamento di questa anziana donna che offre a Dio tutto ciò che ha E dunque è l'offerta di una vita quella che è gradita a Dio Una vita consapevole che Dio è il Signore della stessa esistenza e dunque si abbandona fiduciosamente nelle sue mani Comportamento Comportamento diverso rispetto a quanti invece puntano sull'apparire, sulle queste monete che risuonano, fanno rumore, quelle che lasciano scribi e farisei nel tesoro del tempio ma sono vane di fronte a Dio Invece Invece Dio vuole la sincerità del cuore e così come dice un salmo, nell'intimo egli insegna la sapienza Dunque vuole essere un invito per quest'anno, abbandonarsi fiduciosamente a Dio, primo passaggio Poi Dio ti porta a comprendere, a capire ed ecco l'assenso dell'intelletto, sempre necessario perché si possa parlare di un vero atto di fede E infine abbiamo l'obbedienza del cuore, cioè anche la volontà diventa più docile a ciò che Dio le suggerisce Sia questo l'invito E adesso comunque voglio invitarvi nuovamente a utilizzare i nostri recapiti Innanzitutto l'indirizzo di posta elettronica bibbia e famiglia chiocciola tele radiopadrepio.it Perché magari mercoledì prossimo possiamo riprendere dalle tante sollecitazioni che la parola di Dio oggi ci ha dato Intanto ti ringrazio Giovanni per tutto quello che hai fatto per tutti in questo 2014 E naturalmente ti faccio molti auguri anche qui nella nostra emittente Grazie, auguri anche a te e auguri a tutti coloro che ci seguono Buon anno sia un anno insieme con il Signore Grazie a tutti Grazie a tutti